Queste sono persone a cui l'Europa per fortuna apre le porte, compresi quei paesi come la stessa Polonia che in altre occasioni, anche recentissime, hanno innalzato veri e propri muri contro i migranti. Adesso sarà fornito a queste persone l'assistenza sanitaria, i permessi di soggiorno e anche i permessi di lavoro. L'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra a Proda oggi a Bruxelles, dove da questa mattina i ministri dell'Interno sono riuniti per un consiglio straordinario. In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di persone verso i paesi vicini, ha scritto in un tweet l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati Filippo Grandi. E l'Europa è pronta a dare loro il benvenuto, attivando la direttiva per la protezione temporanea formalmente proposta ieri dalla Commissione europea. La direttiva, ideata nel 2001 e finora mai applicata, consente ai profughi di restare per un anno nello Stato europeo che li ospita e può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi fino ad un massimo di tre anni. Gli sfollati avranno diritto di soggiorno, accesso al mercato del lavoro, assistenza sociale. Potranno ricevere contributi per il sostentamento e le cure mediche senza dover chiedere l'asilo. Per i minori di 18 anni è prevista la possibilità di accedere al sistema scolastico. Si tratta di uno strumento per accogliere molti esoli in poco tempo. La presidenza di turno francese spinge per una intesa rapida, soprattutto con i paesi dell'Est più esposti in questo momento al flusso. Fino a questo momento la Polonia ha accolto quasi 600.000 ucraini. Dal 2017 l'Europa ha abolito l'obbligo del visto per i cittadini ucraini che possono restare fino a tre mesi nei paesi dell'Unione. La direttiva di protezione temporanea copre il periodo successivo. Mi auguro che la direttiva sia attivata, affermato da Bruxelles e la ministra dell'Interno Lamorgese. L'Italia è abituata a gestire anche situazioni emergenziali e faremo fronte a tutte le necessità che si presentano. Secondo fonti del Viminale, dall'inizio dell'invasione della Russia sono stati più di 3.800 gli ucraini entrati nel nostro paese. Arrivano soprattutto dal confine friulano e sono per lo più famiglie composte dalla mamma e da bambini perché gli uomini restano a combattere. In molti casi si sistemano dai parenti che già si trovano in Italia visto che il nostro paese ospita una delle più numerose comunità ucraine in Europa. Per la fase di prima accoglienza il Ministero dell'Interno ha previsto 13.000 posti e in collaborazione con il Ministero della Salute è stato predisposto un piano anche per la vaccinazione anti-Covid. I numeri crescono, nessuno si tira indietro. Mobilità di regione, associazioni di volontariato e cittadini che vogliono dare assistenza a chi sta fuggendo dalla guerra.